Buongiorno, si sta svolgendo a Casale Monferrato un'esercitazione di protezione civile denominata Po 2019 dove sono coinvolte tutte le varie associazioni di volontariato che fanno parte del Com2 della provincia di Alessandria. Ci troviamo, come potete vedere, al centro operativo misto che è il cervello da dove partono poi tutte le operazioni, le simulazioni oggi come oggi per muovere i volontari, per testare la loro preparazione e verificare se tutte le attrezzature che noi abbiamo sono in efficienza. Ecco, come potete vedere se mi seguite entriamo nel cuore del centro operativo, andiamo nella sala dove abbiamo i due operatori un rappresentante della protezione civile e un rappresentante della Croce Rossa, Croce Rossa che in questo momento sta seguendo anche l'associazione della misericordia, abbiamo dei ragazzi di una squadra della misericordia che sta operando in collaborazione con loro sono in contatto diretto con le sale operative delle loro sedi, quindi la protezione civile e in contatto con la sala operativa in strada asti del gruppo di Casale, la Croce Rossa presso la sua sede di Casale Monferrato in strada Pozzo-Santevagio. Da qui noi possiamo avere tutte le situazioni in tempo reale di quello che le squadre stanno facendo delle loro esigenze che hanno durante gli interventi e se ci sono dei problemi in che modo lo possiamo risolvere. Questa sala è una sala che in un'emergenza vera viene completata dalle forze che fanno parte della protezione civile, questo insieme che sono forze di pubblica sicurezza, carabinieri, vigili del fuoco, aziende come potrebbe essere Energica, team per le telefonie, quindi tutte queste forze in una vera calamità naturale si uniscono insieme per poter risolvere questa calamità e poter dare un conforto anche logistico alla popolazione colpita da questo evento. Da questa parte abbiamo la sala riunioni principale dove il sindaco, ecco ci siamo dimenticati che il sindaco poi è di tutta questa squadra il numero uno, è lui che prende la decisione finale di determinate decisioni, in questa sala anche il sindaco riceve gli uffici stampa per relazionare sui vari interventi. Abbiamo qua in questo momento dei colleghi dell'Associazione Radiomatori della sezione di Casale che in tempo reale stanno seguendo i vari mezzi in dotazione a protezione civile e a Croce Rossa dotati di sistemi APRS installati sugli automezzi e quindi in tempo reale noi possiamo sapere dove questo mezzo si sta muovendo, quindi possiamo anche capire se avesse anche dei problemi in questo mezzo, abbiamo alcuni fuoristrada su degli argini in caso di emergenza se fuoristrada avesse dei problemi, questo se non lo vediamo muovere dopo un determinato periodo possiamo anche presumere che ci sia dei problemi a livello in loco e quindi vediamo subito di verificare tramite sempre i colleghi dell'Ari tramite via radio se in effetti il problema sussiste o se è solo un falso allarme. Ora vi porto nella centrale radio dove invece abbiamo gli altri operatori radio in azione perché in un centro operativo misto noi dobbiamo sempre tenere presente che in caso saltasse la luce, saltasse le linee telefoniche l'unico sistema per poter comunicare per i volontari sono le radio, le ricette trasmittenti, quindi abbiamo ogni associazione è dotata di una frequenza radio con la quale da questo punto del centro operativo misto noi possiamo comunicare sia alle sedi operative che direttamente alle squadre fuori che stanno intervenendo. Ora ve lo faccio vedere questa sala, attualmente abbiamo solamente gli operatori della protezione civile dell'associazione radio amatori, questa come vi dicevo prima è la sala che grazie a questa non rimaniamo mai isolati con le squadre all'esterno che operano, è una sala che ripeto oggi è un'esercitazione quindi siamo a numero limitato ma in questa sala durante una vera emergenza abbiamo anche l'operatore di Croce Rossa altri operatori sanitari, l'operatore dei vigili del fuoco, l'operatore delle forze di pubblica sicurezza che può essere polizia e carabinieri. Ecco qua si riuniscono tutti e da qui dipartono gli ordini che vengono presi nella sala che abbiamo visitato prima dove sono presenti questi responsabili, questi delegati delle varie forze che formano la protezione civile. Attualmente abbiamo diverse squadre che stanno simulando questi interventi tra cui una che sta operando con dei sistemi GPS nella quale si simula la ricerca di persone disperse magari che sono state travolte dall'acqua del fiume quindi ci vengono comunicate queste situazioni, stiamo allenando i volontari ad organizzarsi e ad imparare come muoversi in terreni impervi e con queste strumentazioni perché grazie a Dio oggi abbiamo strumentazioni che ci permettono di poter accelerare anche le varie tempistiche delle operazioni. Questo è quanto, io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dato, speriamo sempre che siano solo delle esercitazioni. Grazie a tutti.